Amiche e amici del Bianconero, un piacere ritrovarvi, un piacere commentare con voi l'esito dell'amichevole di Pescara 2-2 con il Brest. È un peccato che la vecchia signora nella ripresa non sia riuscita a mantenere poi la rimonta effettuata, una leggerezza e dopo ci arriviamo in fase di tentativo di creare il fuorigioco, però credo che il lato B del match abbia visto i bianconeri anche far vedere delle buone cose dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico-tattico, non a livello difensivo perché i due gol erano evitabilissimi. Partiamo col dire che vincere è sempre importante, soprattutto per la mentalità, soprattutto perché, come dicono i decani, vincere aiuta a vincere. Però, rispetto alla sconfitta di Norimberga, questo pareggio è più indicativo. Vuoi perché l'assetto proposto era meno sperimentale rispetto al primo tempo in Germania, vuoi perché la squadra sta salendo inevitabilmente di condizione. Sicuramente ci sono giocatori ancora, fatemi dire, volgarmente con le gambe pesanti, perché la continassa si lavora, si fanno anche spesso e volentieri doppie sedute e questa è tutta benzina nelle gambe in vista poi del primo appuntamento ufficiale della stagione tra due settimane in campionato con il Como. Però ci sono dei principi che iniziano ad essere molto chiari. Se determinate situazioni di gioco le abbiamo viste un po' nebulose in Germania, a Pescara invece abbiamo visto in maniera nitida come Tiago Motta voglia interpretare determinati dettami. Penso alla costruzione a tre con Cambiato che si stringe, con la Juventus poi che alza oggi Locatelli al primo tempo per prima e non nella stessa linea di Fagioli e andava anche molto in giro per il campo. Penso al fatto che quando la palla ce l'ha a Cabal poi si debba andare spesso e volentieri in ampiezza. Cabal ha cercato nel primo tempo in due otre situazioni andare da UEA e c'è riuscito. Insomma ci sono delle cose a livello tecnico-tattico che iniziano a diventare molto chiare e che per direi una decina di minuti nel primo tempo e per un segmento un po' più ampio nella ripresa sono state fatte anche bene queste cose. Con ritmo, con coraggio, con personalità, con qualità. Ecco questi sono tutti ingredienti che poi inevitabilmente andranno ad accompagnare il nostro percorso e che poi dovranno vederci anche protagonisti di una crescita esponenziale. Però, se dall'atto teorico passiamo all'atto pratico e le cose iniziano a essere lineari e vengono fatte come Tiago Motta vuole che vengano fatte, piano piano iniziamo a creare l'edificio. Poi, venga, questa squadra oggettivamente mancano gli esterni, alti. Per quanto riguarda quelli bassi, credo che la situazione per il momento la si possa tamponare. Cambiato sarà il titolare a sinistra, a destra c'è Danilo, che oggi ha trovato la via della rete in salsa verde-oro con Douglas Lewis assist, però poi è stato protagonista della lettura sbagliata in fase di fuorigioco. Destra, Basso, Savona deve fare un percorso, ma è importante che si alleni in pianta stabile con la prima squadra. Ad oggi non può essere lui il titolare. Credo che potremmo vedere anche Gatti lì, perché come vi ho raccontato, mi risulta che sia in Germania e sia nell'ultima settimana la continassa, spesso e volentieri sia stato provato anche in quella zona di campo. A livello difensivo dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare molto, perché i gol che abbiamo preso oggi sono troppo facili. Lettura totalmente sbagliata in un concorso di colpe, secondo me, Gatti molto male in quella situazione. Il primo gol del Brest, il secondo gol invece è un errore in fase di fuorigioco, di tentativo da parte di Danilo. Poi però, anche un altro paio di situazioni, difesa troppo alta, è normale, amici amici, è normale che sia così. Al 3 di agosto ci sono ancora i tempi tecnici per sbagliare, per perfezionarsi, per fare ora l'analisi video, per capire come ci si debba mettere. Dobbiamo anche considerare che si stanno facendo degli esperimenti. Non è un esperimento, però Cabal. A me Cabal oggi è piaciuto. Cabal, sì, è vero, poi nel primo gol del Brest è lui che inizialmente sbaglia il tentativo, però è un giocatore che ha i tempi per fare il centro-sinistra come vuole Tiago Motta. Ora, non fatemi azzardare i paragoni con Calafiori, però l'idea di calcio è quella, cioè un giocatore che sappia, sì, difendere, ma soprattutto costruire. Ha fatto quello che voleva Tiago, andare spesso e volentieri con questi lanci lunghi da UEA, ha tagliato le linee, ha dato ritmo, ha cercato l'uno contro uno, ha fatto anche a tutti gli effetti la fonte di gioco. Ecco, io credo che Cabal, al netto che poi debba migliorare in tantissime situazioni tecniche, molti passaggi elementari sbagliati, anche degli stop un po' così, però è un prospetto su cui puoi e devi lavorare. Ecco, onestamente mi è piaciuto, mi è piaciuto per come abbia interpretato il ruolo, poi bisogna migliorare tantissime altre cose. Ma Cabal è un punto di partenza e sono quegli innesti che, se contestualizzati poi ai giocatori un po' più pronti, ti fanno dire, ecco, questo è un colpo molto intelligente. Io non ho dubbi che se Cabal dovesse continuare a crescere così e a conquistare rapidamente la fiducia di Tiago Motta, possa essere fin da subito un giocatore su cui fare affidamento molto concreto. Oggi, sì, ho visto giocatori un po' più imprecisi, un po' più pesanti con le gambe, Turam mi sembra che poi alla fine in due letture ha fatto due errori veramente gravissimi, ma non ne va più fisicamente, anche Fagioli l'ho visto in difficoltà fisica, ma è normale che sia così, è normale che sia così, non si può pretendere che all'inizio agosto le gambe girino al top e anche per le prime due di campionato non sarà così. Certo, bisogna cercare di arrivare, come dicevamo, al Como nella miglior condizione possibile, ma ben sapendo che non sarà il 100%. Quindi è una sorta di base, anche se non bisogna parlare di numeri, ma di nuovo 4-2-3-1 con costruzione a tre, con Cambiaso che si accentra e Locatelli che si alza tra le linee. È interessante, è interessante così come l'ingresso di Douglas Lewis che in poco tempo ha fatto vedere delle cose pregevoli, un tentativo di livello, l'angolo per il gol di Danilo, ha giocato in una posizione più avanzata e potrebbe essere la soluzione in vista anche di Juventus-Como, a meno che la Juventus entrò in quelle settimane e non riesca a sbloccare l'arrivo di Copp. Però, onestamente, questa amichevole mi lascia buone indicazioni, tantissime situazioni su cui lavorare a livello difensivo, in maniera maniacale perché certi gol non li puoi prendere. Bene che Dujan si sia ripresentato sul dischetto che abbia segnato, nel primo tempo ha avuto una buona situazione di testa e lì deve far gol. Diciamo che il lato, ecco, semplice riassunto del match, il lato A della gara, il Brest non ha situazioni, noi ne abbiamo due, una con UEA con un buon tentativo a distanza deviato dal portiere e poi con la grande palla-gol di Dujan. Il resto, il grosso, si scatena nella ripresa e è solamente un peccato non aver tenuto il 2-1 perché credo che la Juventus avrebbe, in virtù del secondo tempo proposto, meritato di tornare a Torino con questo successo. Ora poi ci sarà l'appuntamento in famiglia, dopodiché in Svezia l'ultima amichevole con la Tredico Madrid, che sarà molto tosta, e poi iniziamo a fare sul serio. Si dovrà fare sul serio anche in chiave mercato perché se vogliamo poi associare la compravendita agli spunti di oggi, da davanti sugli esterni ci saranno due giocatori. Ora c'è la grana da risolvere Federico Chiesa perché mi sembra che a Juventus sia arrivato allo scontro totale e ora si dovranno poi tirare le somme di rito e soprattutto fare in modo che questa sessione la si possa effettuare entro questa sessione per evitare brutte sorprese che quindi Federico vada via a parametro zero. Mangula onestamente non mi sembra sia pronto per questo livello. UEA uno dei migliori anche a livello atletico. il Diz, peccato aveva fatto anche gol ma credo che Dujan l'avesse toccata con la mano, non ho visto il replay e sarà un perno di questa squadra, ma ci mancano due esterni, ci mancano due esterni forti, dopo anche la cessione di Sule e lì bisogna intervenire, bisogna intervenire perché bisogna prendere due giocatori più che funzionali, per come intende il calcio Tiago Motta. Per come abbiamo anche portato avanti questa sessione, Copp tra le linee, sganciando come abbiamo visto oggi Locatelli, Fagioli, lo stesso Douglas, e beh Copp ci darebbe tanto, ci darebbe tantissimo e poi Tony Bo deve arrivare perché dietro con la bocciatura di Tiago Jalò che andrà via in prestito, o comunque se non bocciatura con un Tiago Jalò rimandato e Rugani che ha la valigia in mano, l'innesso serve. Ora non facciamoci condizionare oltre in misura della performance di Cabal che deve fare un certo tipo di tragitto, però tra Bremer, se è arrivato Di Bo, Cabal, Gatti Giolli, Danilo, poi ti tieni Ruil stesso che si allenerà la prima squadra, ecco onestamente non so se la Juve con entrambe le partenze di Rugani e Tiago Jalò vorrà fare qualcos'altro assieme all'arrivo di Tony Bo. Lo scopriremo solamente vivendo, intanto l'esito della Michele di Pescara è di 2-2 e fateci sapere qua sotto nei commenti come l'avete vista.